Consigliere Abate, ma per cosa interviene? Presidente, lei non ha il dono della divinazione, mi faccia prima parlare e poi potrà scoprire di cosa interviene. Se poi lei ha il dono della divinazione, legge nel pensiero, forse potrebbe fare l'astrologo, un'altra attività forse più utile anche per la comunità, perché potrebbe prevedere vari eventi che potrebbero succedere per la città di Taranto o per altri. Ma anche io mi associo agli auguri, per carità, il bello della democrazia è questo. Consigliere Abate, abbiamo appena disquisito, io sto facendo un intervento, posso farlo? Il Presidente le insegna, deve essere super parte, questo invece è uno sconso di intervento a gamba tesa sulla libertà di espressione. Qui abbiamo una maggioranza cavaleontica che cambia, che salta da un movimento all'altro. Presidente, lei deve imparare a fare il Presidente, capisco che si deve fare bene davanti al suo padrone politico Melucci, padrone politico, lei era uno di quelli che stava firmando dal notaio, stava tradendo Melucci, e Melucci non dici niente, ora Melucci, sindaco non dici niente, guardami in faccia Melucci! Consigliere Abate, e basta no! Consigliere Abate, e basta no!